Viminale è impegnato a migliorare tempi e organizzazione nel rilascio dei passaporti ai cittadini anche in seguito ai tempi lunghi per le prenotazioni online che le questure stanno registrando in alcuni comuni per via di una grandissima richiesta post pandemia di documenti validi per l'espatrio. Dal 15 di giugno abbiamo implementato e potenziato lo strumento tecnologico proprio per rendere l'agenda online più performante. Noi stiamo lavorando per implementare ad esempio gli open day, quindi le aperture giornaliere da parte delle questure, stiamo rafforzando gli sportelli degli uffici passaporti delle questure stesse, stiamo lavorando sugli straordinari delle forze dell'ordine. Nei primi sei mesi dell'anno, sottolinea il sottosegretario Molteni, sono stati già rilasciati 1.400.000 passaporti. Ora il Viminale sta mettendo appunto un accordo con Poste per coinvolgere anche le amministrazioni comunali e fornire una pluralità di canali di accesso per presentare le domande. Dunque ci sono alternative al sito della Polizia di Stato? Assolutamente sì, per motivi di urgenza che possono essere legati a motivi di lavoro, di turismo, di studio. Quindi legati all'urgenza si può accedere direttamente alle questure e poter fare immediatamente domande e quindi avere in tempi assolutamente rapidi il passaporto.